Ti adoriamo Gesù, dentro quest'ossia c'è un cuore palpitante di amore. Noi non vediamo questo cuore, ma crediamo che questo cuore qui, aperto, grondante, di sangue, fiammante di amore per noi, i nostri occhi sono chiusi, però la realtà è più grande di quello che vedono i nostri occhi, la realtà che addirà dei nostri sensi, ma è una realtà stupenda, misteriosa. Il tuo cuore palpita di amore per noi, il tuo cuore aperto. O Gesù, siamo nel mese del tuo cuore. Tu rivelasti ai tuoi santi le ricchezze di amore del tuo cuore. Fa sentire anche a noi questa sera l'immensa amore del tuo cuore per noi, la tua compassione per noi, la tua misericordia per noi. O cuore di Gesù, aperto a noi, noi ti adoriamo qui in questo santissimo sacramento. Vivo e vero tu sei in questo sacramento dell'altare e il tuo cuore umano palpita proprio in quest'ossia veredetta. Noi non lo vediamo, ma sappiamo con sicurezza la sicurezza della fede che il tuo cuore è palpitante qui di fronte a noi. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il santissimo e divilissimo sacramento. Il dolce cuore del mio Gesù. Fa che io ti ami sempre più. Signore Gesù, era stato scritto nel profeta Zaccaria, guarderanno a colui che hanno trafitto. Tu sei stato trafitto per noi e adesso tu ci dici, venite a me o voi tutti affaticati e stanchi. Venite a me, voi tutti che avete dei pesi sulle vostre spalle, voi tutti spossati, venite a me, guardate il mio cuore. Guardate il mio cuore e imparate da me che sono miti ed umili di cuore, imparate dal mio cuore ad essere miti ed umili e allora il vostro peso sarà leggero, il vostro gioco sarà suave. Sì, oh Signore, questa sera noi vogliamo guardare a te, miti ed umili di cuore e vogliamo venire a te per imparare da te e allora la nostra spostatezza sarà cambiata in leggerezza. Allora i nostri pesi saranno leggeri, il nostro gioco non ci peserà più. Allora il nostro cuore sarà nella pace e nella gioia perché tu hai preso su di te tutte le nostre miserie, tutti i nostri pesi. Sielo dato e ringraziato ogni momento. Sono il tuo Dio, il tuo Signore, pure che ti parecchè. La tua parola mi salverà, pure che ti parecchè. La tua parola mi salverà, pure che ti parecchè. La tua parola mi salverà, pure che ti parecchè. La tua parola mi salverà, pure che ti parecchè. La tua parola mi salverà, pure che ti parecchè. O Signore, tu ci dici, voi voi tutti affaticati e stanchi, o voi tutti spossati, voi tutti che avete il cuore stanco dal lungo camminare, voi che siete stanchi di aspettare, voi che siete stanchi nel lottare, venite a me. Voi che siete stanchi nel dolore. Voi che siete stanchi nel pianto e avete il cuore afflitto. Voi che avete il cuore spezzato per i dolori subiti, voi che avete il cuore ferito, il cuore piegato per l'ingratitudine degli altri. Voi che siete amareggiati di cuore, voi che avete gustato il fiere della parola umana, della parola che avvelena. Voi tutti che avete l'amarezza nel cuore, venite a me. Voi tutti che vi siete smarriti lungo le strade, avete smarrito la via, voi tutti smarriti di cuore, venite a me. Voi tutti languidi, voi che non ce la fate più a camminare, venite a me. Voi tutti delusi delle aspettative, voi delusi dei comportamenti familiari, dei comportamenti degli amici, venite a me. Voi tutti che in qualsiasi maniera soffrite nel vostro cuore e avete il cuore profitto, adorato, squarciato, venite a me. Il mio cuore è squarciato per voi, il mio cuore è afflitto per voi, ma il mio cuore è largo, nel mio cuore c'è posto per tutti. Il mio cuore è la casa del Padre, è la casa vostra, venite a casa vostra, riposate nel mio cuore e troverete pace per l'anima vostra. Vieni, oh Spirito Santo, vieni su di noi, vieni oh Spirito Santo perché questa parola che questa sera noi abbiamo proclamato è per noi oggi. Non possiamo cercare altra consolazione se non nella Tua parola. Allora vieni, oh Signore, perché Tu hai proclamato, beati, tutte le categorie degli uomini. Vieni, oh Spirito Santo, vieni a consolare i nostri cuori, vieni oh Spirito di Dio, scendi con potenza. Noi tutti Ti invochiamo, scendi oh Spirito Santo. Vogliamo invocarti perché non possiamo riconoscere Gesù il Signore che è qui in mezzo a noi, nel Santissimo Sacramento dell'Altare. Vieni oh Spirito di Dio, vieni perché il nostro cuore, il mio cuore è ammalato. Vieni oh Spirito di Dio, vieni perché è ammalato di ogni malattia, Tu lo sai. Vieni oh Signore, dammi la vita, noi Ti invochiamo questa sera, scendi su di noi. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, tutti insieme. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito di Dio, vieni Spirito Consolatore. Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito di Dio, vieni Spirito Santo, noi Ti invochiamo. Spirito Consolatore, scendi su di noi. 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 Passa in Dio, vieni Spirito di Dio, vieni Spirito di Dio, vieni Spirito di Dio, vieni per noi. Spirito Consolatore, scendi su di 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 noi. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.